65 sono i punti per Avidor Boy, tutti i palconi, tutti i palconi, tutti i palconi, questa è la chiusura, allora non è nada, adesso c'è Tonya, grazie per la noveggio, c'è la TAPSTER, 207 in testiera. Il partito, quindi siamo al numero 3, che è la partita della TAPSTER, che è la partita della TAPSTER, numero 10, numero 10, numero 5, siamo a 15, quindi vediamo il primo dei due giocheri, lo supera, siamo a 27, 34 now, con il muro. Speriamo stati ancora in verticale, 42, mano sinistra naturalmente per la linea confusita, 51.